Sì, è stato un barbo. Lo sentisit il tuo barbo? Sì, è stato un barbo. 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 non mi piace vedere è una carpa sembra pesante è una carpa non mi piace devo farlo da un po' è una carpa è un po' Strano, non è che spagnolo? No? No, è italiano Sì? No, no Sì, sì Quanto ve l'hai preso? Ho mangiato No È passato di fianco, dici Sì, non c'è appena out, poi cambiamo a spot, cioè mi metto dal tuo posto, per l'inizio. Sì, non c'è appena out, poi cambiamo a spot, cioè mi metto dal tuo posto, a start. Eh, vabbè, ma qualcosa arriva, li chiami? Sì, ma sarà piccolo come prima. Non sarà come il tuo, perché è già qua sotto, ma... Sì, non c'è più proiezioni. Sì, c'è un po' per il vivo, questo. Io ho il fluorocarbon. Mi fai solo una foto con una storia o qualcosa? Con il telefono? C'è un po' più grande. C'è un po' più grande. Un barbo. È bello? Madonna che barbo. È un aspe. No, è un barbo, madonna. Che barbo è? Io. Guarda che c'è tipo dei funghi. Che sterla. Che sterla. Ha perduto. C'è un po' più grande. Come veody. Ciao. Ciao. Ciao.